Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Si torna puntualmente a cadenza regolare a parlare del dramma del caporalato in Italia, ma se ne parla solo quando accadono tragedie di cui non si può non parlare, tempo di parlare di dette tragedie e poi tutto torna alla normalità e il caporalato continua a procedere indisturbatamente. È accaduto, come sapete, nei giorni scorsi che un lavoratore indiano ha perduto un braccio sul posto di lavoro nei campi, anziché essere soccorso e curato è stato abbandonato a bordo strada e alla fine è morto. Questa è la tragica vicenda che giustamente ha creato ondate di indignazione, ma come dicevo queste ondate di indignazione sono effimere perché poi tutto torna come era prima. Il caporalato non è altro che la fase suprema dello sfruttamento capitalistico e oltretutto rivela limpidamente la vera funzione dell'immigrazione di massa che serve ai padroni del capitale per avere braccia a basso costo, per abbassare con la concorrenza a ribasso le condizioni dei lavoratori in generale e poi dulcis in fundo per creare una lotta di classe all'interno della medesima classe, ossia la lotta orizzontale fra lavoratori autottoni e lavoratori migranti. Se vi fosse una sinistra seria dovrebbe battersi contro l'immigrazione di massa, rivelando il fatto di per sé ovvio che il nemico non sono i migranti ma i padroni del capitale che usano l'immigrazione di massa pro domo sua come si dice. Ebbene la sinistra invece in Italia che non è un fenomeno serio ma non lo è in tutta Europa, infatti la chiamo già da tempo sinistras, come dice il titolo del mio recente libro, celebra l'immigrazione di massa e quindi svolge la parte di apologeta dell'ordine della globalizzazione imperialistica con sfruttamento incorporato.